Musica Ciao Anna! Oggi ci troviamo qui per una regna ricetta Troveremo a rifare la famosissima e super invitante Crema di crema alla Edgar Per chi non lo sapesse è tratta dal film Ieri Sto Gatti E chi non ha mai voluto provare la crema di crema alla Edgar Ovviamente il presenza che sono libero di Edgar, ovviamente Attento, ti addormenti anche tu con un sorso di più Gli ingredienti che vi occorreranno sono 250 ml di panna liquida 250 ml di latte 4 tuorli d'uovo, solo il tuorlo 100 g di zucchero Cannella Noce moscata E una bustina di vanillina Cominciamo! Iniziamo dividendo i tuorli dagli albumi In un pentolino versiamo il latte e la panna Accendendo il fuoco al minimo Mentre latte e panna si riscaldano Aggiungiamo lo zucchero ai tuorli d'uovo E con una frusta sbattiamo in tutto Finché non si sarà formata una cremina uniforme Alla panna e latte aggiungiamo gli aromi Vanillina Cannella E infine una bella grattata di noce moscata Mescoliamo cercando di amalgamare bene il tutto Quando inizia a bollire aggiungiamo la cremina di uova e zucchero Mescoliamo ancora e lasciamo cuocere per circa 3-4 minuti Sempre a fuoco basso Infine versiamo il tutto in una tazza E voilà! Il vostro piatto preferito preparato in modo specialissimo È crema di crema la Edgar! È squisito! Per un risultato ancora più fedele Potete accompagnare la crema con dei biscotti Come groviera Buon sonno! Voglio dire buon appetito! Alla prossima Ciao Ciao